Buongiorno, la paura fa novanta, l'amore cento. Sì, l'amore, ma quello vero. I giorni che ci introducono alla grande festa della Pentecoste sono particolarmente riservati alla preghiera. In vista dell'effusione dello Spirito Santo fu Gesù a chiedere agli Apostoli di non muoversi da Gerusalemme, ma di rimanere in quella stanza al piano superiore dove con Maria e alcune donne si ritrovavano sempre a pregare. Per ricevere lo Spirito Santo occorre pregare. Possiamo forse avere una persona con noi se non la cerchiamo, se non la chiamiamo per nome? Così è dello Spirito Santo. Occorre invocarlo nella preghiera perché venga a noi. Di più, dal momento che lo vogliamo non fuori ma dentro di noi, allora la preghiera deve partire dal cuore, deve addirsi al cuore, avere nell'amore le sue vere sorgenti. Gesù è chiaro, il Padre vostro celeste darà lo Spirito a coloro che glielo chiedono. Chi ama chiede e lo fa pregando. Nella preghiera si svela a noi un meraviglioso mondo spirituale. Nella preghiera è il vero segreto dell'umanesimo, del diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia. Solo la preghiera non deforma l'uomo ma lo riforma, lo ricrea, lo rinnova, lo rende bello. È la preghiera, come a Pentecoste, che fa dei discepoli di Gesù i testimoni dello Spirito Santo, uomini e donne dal coraggio mai d'uomo, dai sacrifici mai rimpianti. Amore vero 100%.